malachia 4.5 ecco io vi mando elia prima che venga il giorno del signore giorno grande e terribile quindi elia si sarebbe reincarnato poco prima della venuta di cristo ma elia e giovanni battista lo dice il vangelo gli appare l'arcangelo gabriele a zaccaria e gli dice elisabetta tua moglie ti darà un figlio che chiamerà i giovanni gli camererà innanzi con lo spirito e la forza di elia elia si è reincarnato ed era giovanni battista non lo dice caria lo dice l'arcangelo gabriele che degno di fiducia infatti perché nemmeno zaccaria gli crede perché gli dice ma come io sono vecchio mia moglie pure era pure sterile come facciamo a fare un figlio e gabriele che un angelo della giustizia si arrabbia dico ecco siccome hai dubitato io sono gabriele che sto al cospetto di dio e sono stato mandato a portarti questo lieto annunzio siccome non mi hai creduto sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose si avvereranno perché non hai creduto le mie parole le quali si adempiranno a loro tempo quindi giovanni battista era elia la reincarnazione lo conferma gesù cristo in persona ora dai giorni di giovanni battista fino a ora il regno dei cieli è preso a forza i violenti se ne impadroniscono poiché tutti i profeti e la legge hanno profetato fino a giovanni e se lo volete accettare dice gesù egli è elia che doveva venire e poi lo ripete talmente importante ma io vi dico elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto anzi l'hanno trattato come hanno voluto perché erode gli fa tagliare la testa così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire però per a loro allora i discepoli compresero che gli parlava di giovanni battista quindi c'è o non c'è la reincarnazione nel vangelo certo che c'è non c'è la parola ma se abbaia come un cane scodinzola come un cane mangia come un cane c'è la forma del cane non ho bisogno di un prete che mi dica che è un cane lo capisco da me reincarnazione e lì addirittura torna perché il precursore della venuta di cristo la seconda venuta arriva il sacerdote nicodemo arriva il sacerdote nicodemo che era uno dei sacerdoti del tempio quindi collega di caifa di di quelli che hanno voluto la morte di cristo e dice una cosa importante nicodemo che i sacerdoti avevano riconosciuto il messia rabbi noi quindi lui e gli altri sappiamo che tu sei un dottore venuto da dio perché nessuno può fare questi miracoli se che tu fai se dio non è con lui quindi lo sapevano che erano il messia questi assassini e l'hanno ucciso e chiede a nicodemo della reincarnazione e gesù gli risponde in verità in verità ti dico se uno non è nato di nuovo sono non è nato di nuovo non può vedere il regno di dio nato di nuovo ora i preti ci dicono che il battesimo no verso l'acqua al bambino non è vero perché parla di utero nicodemo non c'era il battistero all'epoca come poteva nicodemo parlare di battistero è una menzogna quella che ci viene detta perché nicodemo disse come può un uomo nascere quando è già vecchio può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre nascere si sta parlando di nascita corporea rinascere reincarnarsi in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua il corpo e di spirito non può entrare nel regno di dio quindi la reincarnazione assieme alla legge di causa ed effetto è il cardine del vangelo e i credo religiosi una buffonata terrificante manipolatoria inventata da uomini in carne e ossa che si vestono in modo strano per fregare il prossimo in questo momento io sto facendo il sacra docens insegno alla scienza sacra sono in giacca e cravatta camicia non ho bisogno di mettermi i paramenti sacri non è sacro il paramento è sacra l'azione che fa l'uomo come può essere sacro un paramento è blasfemo colui che la indossa poi siccome nicodemo insiste gesù gli dice quello che è nato dalla carne e carne c'è le leggi della materia fare la cacca non sono quelle dello spirito creare sono due leggi diverse corpo e spirito quello che è stato fatto in acqua e quello che è stato fatto in spirito non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che lasciate di nuovo più chiaro di così che volete quindi dov'è il problema della sofferenza dell'uomo il problema della sofferenza dell'uomo è che noi violiamo la legge e la legge è un fatto scientifico sono forze universali reali sono le strutture che governano le aggregazioni ordinate della materia ai fini della manifestazione della vita ora mi dovete spiegare voi come può essere che in un corpo vivente ci sia del ferro del calcio del magnesio del potassio cos'è che rende i minerali i metalli materia vivente ordinata che si auto organizza per reggere il sistema vita non ci pensiamo mai a queste cose se io prendo un pezzo di ferro datemi un pezzo di ferro per favore un pezzo di e lo guardo ecco questo è metallo come può diventare vita un pezzo di metallo che magia c'è dietro io ho sto metallo nel mio corpo anche il mercurio dei pesci più altra roba quindi è scienza non esiste la religione è un inganno esiste la conoscenza che in grado di spiegare effetti incomprensibili che ancora non riusciamo a capire li vediamo la scienza li vede ma la scienza non me lo sa spiegare perché c'è il ferro nel corpo mi diranno perché il ferro con l'ossidazione trasporta l'ossigeno circolazione arteriosa venosa bla 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 sì ma perché il metallo un corpo biologico dovrebbe essere fatto solo di biologia non di metalli di minerali dove la magia le strutture i campi energetici sconosciuti o quasi che aggregano la materia esistente minerale vegetale animale in un corpo perfettamente funzionante senza la nostra volontà che sostiene la manifestazione intelligente dello spirito mettete uno spirito nel corpo di un cane non può fare nulla non ha le mani con un pollice opponibile non ha le corde vocali strutturate in questo modo non all'encefalo che abbiamo noi lo spirito intelligenza ha bisogno per manifestarsi di un corpo umanoide ecco quindi che c'è la seconda morte la seconda morte è la condanna peggiore per i peccati gravissimi contro la creazione lo stagno di fuoco e zolfo la genna di cui parla cristo cioè che dio per i peccati più terribili condanna lo spirito a reincarnarsi in corpe di bestie per molto tempo fino a che non capiranno che è meglio non rompere le palle i peccati è scritto nel vangelo vi sono peccati che non vengono perdonati i peccati contro il figlio vi saranno perdonati ma i peccati contro lo spirito santo non vi verranno perdonati è meglio che vi fosse legata una macina ad asino al collo e foste scagliati in mare piuttosto che scandalizzare uno solo di questi bambini oggi esistono pedofili gruppi di pedofili potenti che ingravidano donne e fanno allevamenti di bambini per violentarli muoiono entro i due anni per le sedizie continue a cui vengono sottoposti questa è la nostra società quindi dio cosa farà a questa società e noi siamo complici perché siamo cani muti non ci opponiamo siamo perfettamente conformati al sistema si chiama ignavia noi usiamo le ricchezze criminali che il sistema ci procura falcidiando i popoli che mantiene in povertà africani sudamericani eccetera eccetera fatevi amici con le ricchezze ingiuste le nostre ricchezze amici che ci permettono di essere qui oggi a disquisire di queste cose meravigliose vengono dall'omicidio dallo sfruttamento iniquo dall'assassinio dei paesi che hanno le risorse che noi italiani non abbiamo allora cristo dice comprendo che voi per vivere in una società dobbiate adeguarvi a quello stile di vita ma usatele per la giustizia nel mondo se no farete una brutta fine perirete tutti lo dice il vangelo si sono pure inventati il gesù quello misericordioso che perdona tutti indistintamente no no falso c'è la giustizia perché se non c'è giustizia non c'è equilibrio giustizia non è vendetta giustizia viene da giusto giusto è equilibrato armonico corretto etico quindi dio deve a forza visto che l'uomo non lo accetta da migliaia di anni imporre l'equilibrio perché l'uomo sta devastando la sua creazione l'immacolata concezione la creazione purissima di dio gratis non si è fatto finanziare dalla bce dio per creare del mondo ce l'ha dato gratis